Ragazzi sono dentro questa casa pazzurda Mio dio guardate Sono all'interno di questo mall Che è praticamente tutto un coso Una struttura di cose assurde Guardate qua stai dollar general Non so credo che sia una cosa americana tipo E qua intorno a me come vedete non c'è nessuno Sono nel mezzo del nulla E si dice che in questo posto Io sono venuto ad abitare qui di notte Perché si dice che in questo posto Proprio qui è stata vistata Mascia e orso che però stanno facendo Le loro marachelle Le marachelle proprio Quelle cose che fanno molto paura Esatto proprio quelle Non devono comportarsi male loro Prima di tutto esploriamo questa casa Magari ritroviamo qualcosa qui in giro Vi immaginate se trovi Ma questo sono io Ma perché non pensavo di essere così brutto Vabbè ogni volta che mi guardo la mattina sono circa così Ok però non pensavo sempre Tutti i giorni così vabbè Allora usciamo da qua Aiuto che paura L'ombrello mi fa paura Perché ho detto l'ombrello? Volevo dire l'ala Questa cosa mi fa paura Aiuto Ma dove sono finito? Ragazzi mi sono perso dentro qui Ma che cosa? Ragazzi aiuto Per favore Sono bloccato dentro Ah ok Ora riesco ad uscire Vedete Bene Ah di nuovo Questo cosa Che schifo Sentite andiamocene via Non voglio più esplorare la casa Perché ci sono gli ombrelli Cioè gli specchi lì dentro E anche gli ombrelli A quanto pare che schifo gli ombrelli Allora Dollar General Qui dentro Stiamo attenti ragazzi Piano Sentite Sentite molto bene Sentite Allora ci sono DS Allora Entriamo Con calma Notate una cosa Vabbè che notte Ma sugli scaffali Non c'è proprio niente Zero Non c'è niente Io se volevo prendere Non so Dei dolci magari Perché ho fame Non posso Farlo Non posso Datemi da mangiare Datemi immediatamente da mangiare Brutti schifosi Eh Ma perché non c'è la cassiera Perché allora si può entrare nel negozio E non c'è la cassiera Signora cassiera Devo farla io Allora la cassiera Ciup 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 Ecco sto distruggendo tutto Sentite ma Pericoloso Masha sei qua Oh Che diavolo è stato Che diavolo è stato Avete sentito Dannazione Pronto Masha Ma aveva riso Tipo Che cosa aveva fatto Io non capisco bene Che caspita Sta facendo quella grande Masha Che non è altra Cattiva proprio È proprio cattiva Lego Ah qua si vendono i Lego Ma non è vero Perché O li hanno rubati tutti Ma mi sembra che tipo Questo posto ragazzi Sia stato dimenticato Da tutti quanti Proprio da tutti Aiuto Aiuto È stato dimenticato È stato dimenticato da tutti Beh ma oddio Ah ecco perché c'è il segno Ma c'è qua che diavolaccio c'è Ah ci sono tutte Tutti i vari bagni Vabbè no Che poi ci sono gli specchi Che brutto Ragazzi No 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 Per favore No 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 ti prego No ti prego No ti prego No ti prego Ma che cosa Vedete allora Che c'è davvero Quindi era questo il segreto Di questo dannato posto Infazzito È proprio questo il segreto Ragazzi Avete capito Quindi ah è lì però Vedo qualcosa Lì più in fondo Vedete Eh sì Qua dentro Magari c'è di un'omaccia No infatti Allora scappiamocene Via 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 Che donnazione c'è Ma qua c'è tipo un lago What Ma poi è bruttissimo Perché tutto notte Non si vede niente Dannazione ragazzi Che cosa c'è qua Hmm C'è tipo un barile qua sotto Mi sembra Apriti Sesamo What Ragazzi ma c'è veramente qualcosa qui Cos'è Ma è un robot Cos'è sta roba Non capisco Ma è tipo masha È una bambola Cos'è È una bambola E che ci fa qua Forse sarà la bambola di masha Può essere Così Adesso La prendo e la porto a masha Con questa cosa qua Perfetto Allora vediamo Magari masha se ne va Se prendiamo questa cosa Oppure magari si arrabbia Perché pensa che gliela abbiamo rubata Ecco Tieni masha Tieni No Era interessata ad uccidere me Quindi Non era interessata la bambola Magari ci gioca adesso Oddio Guardate ragazzi Guardate Che brutta Ma perché entra dentro i negozi Ma che sta facendo Sta distruggendo le cose Ma sta distruggendo le cose No 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 Masha Per favore Aiuto Cosa è successo No 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 Me ne vado ragazzi Mi sta inseguendo per tutto il coso Aiuto Per favore Vattene via Per favore No Per favore Vai via Masha A me A me non me ne frega Niente adesso Prendo questa cosa La metto così Ok così E poi faccio di nuovo così Ok Ho bloccato qua E poi faccio di nuovo così Ok Adesso nessuno può entrare qui dentro Perché Io non posso uscire Beh a meno che non scavalco qua I cosi Però è molto difficile In realtà non si riesce Bene Masha Adesso non mi cederà più E resterò per sempre qua Ok adesso sto guardando le mie telecamere di sicurezza Masha non può permettersi di continuare a venire qua a casa mia Ogni volta che gioco alle sue mappe maledette ragazzi Quindi Masha Se mi stai sentendo E son sicuro che mi stai sentendo Vai via Vattene via Razza di Masha Che fa le marachelle cattive cattive Non si fa eh Non si fa Io mi devo fare il vento Perché mi sta facendo venire molto arrabbiare Mi sta facendo venire Masha Non puoi venire a casa mia E poi dopo fare così Capito Questa Masha è pazza È pazza ragazzi Son sicuro che sia pazza Anche perché può fare tutte le sue mosse strane Avete visto ogni volta che viene qua Quanto fa paura da uno a mille Trentamila forse Sicuramente ragazzi Ma dannazione Ma Masha Ma cosa stai facendo Io sto guardando Proprio Perché devo capire Che diavolo sta facendo questa Masha Ma non è possibile però Cioè dai Masha Vai via Guardate Allora per ora non c'è ancora nessuno Quindi direi che va bene così no Però ho paura che arrivi tutto ad un tratto Allora Effettivamente non sta succedendo molto Quindi forse Masha veramente ha smesso Davvero Masha Bene grazie Per fortuna ragazzi Ovviamente se vedete Masha da qualche parte Io adesso ormai ho chiuso le telecamere Quindi non vedo più niente Però se vedete Masha da qualche parte Scrivetemelo nei commenti Chiaramente Perché Masha non si deve permettere mai Di venire a casa mia Quindi E soprattutto se la vedete voi A casa vostra Fatemelo sapere Ovviamente Iscrivetevi al canale Lasciate like Ciao Ciao Ciao